La via Migliazzi è responsabile della formazione dell'ente bilaterale del turismo toscana che è stato parte nel progetto a scuola. In questo momento ci troviamo a Russell Newton, una delle scuole che ha partecipato al progetto e il capofilla del progetto stesso. Io sono stata docente nei corsi sia di tutor aziendali, di tutor rete e di tutor scolastici e ho seguito anche i ragazzi nella costruzione dell'impresa formativa simulata. Il progetto a scuola è stato veramente interessante, gli imprenditori hanno potuto conoscere le opportunità e i compiti che un tutor deve avere quando segue un ragazzo. Allo stesso tempo gli insegnanti hanno potuto conoscere meglio il mondo delle imprese e seguire i ragazzi nella costruzione di un progetto di nascita di un'impresa formativa simulata. Si spera davvero che il progetto possa avere un futuro, abbiamo già idee per il futuro perché il progetto è stato davvero interessante e importante. Grazie 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 Grazie